Bene carissimi amici, una buona serata a tutti voi, benvenuti come di consuito nell'appuntamento di analisi e estrazione per quanto riguarda il quale estrazionale dell'estrazione di giovedì 26 di maggio. Allora notiamo la sortita del 90 sulla ruota di Napoli, un 90 che io avevo annunciato che continuava la sua cavalcata di frequenza e che si sarebbe ripetuto dove è già sortito, le mie parole stanno trovando continuamente riscontro nei fatti reali. Andiamo all'estrazione precedente, cosa vi avevo fatto vedere? La mia fantastica spia 84 che dice sì al 90. 84 sortito a Bari, vi ho detto nella scorsa analisi, attenzione perché il 90 quando esce questa spia, il 90 si presenta o sulla ruota di rilevamento o sulla diametrale, quindi Bari-Napoli a colpo secco, il 90 sulla ruota di Napoli anche in quinta posizione. Un 90 vinto anche dal 90 a bomba presentato sul mio canale Milano-Napoli, vinto in quinta posizione, presentato a tutti voi. Quindi attenzione quando vi vado a dare delle spie sul 90 perché sono micidiali la spia 84 sapete che è veramente pazzesca, l'abbiamo vista nell'estrazione del 24 maggio. Attenzione perché è sortita anche la nazionale il 24 maggio, quindi il 90 ritornerà anche sulla ruota nazionale. Però cosa c'era l'estrazione scorsa? C'era la doppia figura 9 tra le ruote di Bari-Napoli, 81 e 54, qui c'era un grande 90 e infatti è sortito subito sulla ruota di Napoli, ma si potrebbe addirittura ancora ripetere sulla ruota di Napoli. Avete visto cosa è successo sulla ruota di Bari? Il 90 è sortito ben sei volte e su Napoli deve comunque recuperare una grande frequenza in virtù di un sacco di condizioni che sulla ruota di Napoli sono sortite. Sono già 2,90 sortiti a Napoli, quindi attenzione assoluta. Come vedete il 90 si sta ripetendo sulle ruote dove già è sortito. Attenzione, Bari tra l'altro porta il gemello in terza posizione, questa è un'altra condizione per vincere il 90. E quindi il 90 ancora Bari-Napoli. Quindi attenzione, l'89 annuncia il 90, ruota di Bari. Bellissima somma 90 in prima posizione, l'isotopa tra le ruote di Bari-Cagliari, annuncia il 90. Sapete benissimo che abbiamo il mio speciale 90, Bari-Cagliari-Cagliari-Firenze, quindi attenzione assoluta, l'1, grande segnalatore del 90. L'88, molto bello, c'è questo bellissimo triangolo, 88-1, 89 tra le ruote di Bari-Cagliari, veramente eccezionale. Quindi un 90 che Bari-Cagliari veramente bomba. Abbiamo una doppia cadenza 9 sulla ruota di Cagliari, 59-79. Isotopia tra le ruote di Cagliari-Palermo, 79-39. Tra l'altro il 39 è un altro segnalatore del 90 sulla ruota di Palermo, quindi attenzione anche a Palermo. C'è anche la cadenza 6-86, ma vi voglio far vedere l'estrazione scorsa anche su Napoli cosa c'era. Distanza 1 e distanza 2 consecutiva, 76-77, 76-78. Attenzione quando trovate le distanze 1 e le distanze 2, perché sono annunciatrici del 90, infatti è uscito a colpo. Cosa possiamo dire? Quindi un 90 che potrebbe andare ancora in ripetizione a Napoli. Cagliari per quanto mi riguarda rimane pazzesca. Quell'1 in prima posizione è molto bello, ma quella somma 90-1, 89 in prima posizione è veramente eccezionale. Poi vediamo ancora Firenze potrebbe avere una ripetizione. Milano potrebbe avere una ripetizione. Cadenza 4 in terza posizione isotopa, 64-14. Quindi anche molto bella. Distanza 1 in verticale, 56-57. Anche Roma potrebbe avere una ripetizione del 90, 18 in terza posizione, figura 9. Quindi molta attenzione. Torino, somma 90 di zerati, bellissima, 70-20. Quindi cari amici, le previsioni rimangono confermate. Chi non ha preso di speciali 90 lo faccia. Io insisto sempre perché poi arrivano gli ambisecchi e chi non l'ha presa la previsione più si mangia le mani. Sapete benissimo che quando presento lo speciale 90 si va a vincere alla grande, ma anche con la previsione Milano-Napoli vi ho presentato il 90 e l'abbiamo vinto ancora. Quanti 90 vi faccio realizzare e vincere ogni mese. E l'ambata, l'estratto è terminato, ve lo vado sempre a regalare. Quindi, e so che tanti andate a vincere, proprio i 90 che vado a regalare dalle diverse condizioni. Vediamo ancora se possiamo segnalare qualcos'altro. Guardate nazionale, come il quadro estrazionale poi parla alla fin dei conti. Guardate nazionale, l'estrazione precedente, spio 84 e anche il 45, segnalature del 90. In queste estrazioni di giovedì 26, gemello in terza e doppia cadenza 7. Questo doppio numeretto è anche molto bello perché il diametro è il decino dell'1 e il 6. Quindi state a vedere come il 90 ritornerà sulla ruota nazionale. Quindi continua questo meccanismo di ripetizione sulle stesse ruote. quindi non è strano se vedremo ancora il 90 a Napoli, se lo vedremo ancora a Firenze, se lo vedremo ancora a Roma, se lo vedremo ancora al nazionale e se lo vedremo ancora a Bari. Quindi un 90 che sta portando una grandissima frequenza, quindi molta attenzione a seguire. Sempre i miei consigli di gioco. Mi raccomando il 56 sulla ruota di Bari, oggi è uscito il laterale 55, quindi continua ad essere molto interessante. Quarta e quinta posizione sulla ruota di Bari. Poi vediamo un po' questa sequenza di numeretti molto bella 1475 tra le ruote di Cagliari, Firenze e Genova. Vediamo un po'. Distanza 1, ruota di Cagliari, guardate, 79-80. Quindi attenzione al 90. Cagliari mi piace molto, quindi attenzione. Vediamo ancora un po'. Distanza 2 a Palermo, 37-39. E direi nient'altro. Vediamo un po'. C'è cos'altro da poter segnalare. Mi sembra di no'. Questi sono, diciamo, i segnali, le condizioni di questo quadro estrazionale, ad una prima occhiata, che gli ho fatto vedere come poi da un quadro estrazionale all'altro i segnali, le spie, tutti quelli che sono i segnalatori poi ci vanno, alla fin dei conti, a far realizzare delle belle vincite. Sapete benissimo che i miei studi sul 90 sono incredibili, quindi ho studiato anni delle spie specifiche, delle condizioni specifiche e chi mi segue sa che il 90 lo andiamo a vincere sempre al grande. Ho dedicato tanti anni allo studio di questo numero, non è un numero assolutamente come gli altri, ha un comportamento diverso dagli altri numeri e ha una sortita diversa dagli altri numeri, quindi è un numero particolare che va studiato con attenzione, che ha dei segnalatori, che ha delle spie, che ha un movimento diverso e questo ha generato anche un certo mio interesse e una certa passione per quanto riguarda questo numero. So che tanti di voi vogliono sempre sapere dove giocare il 90, dove vincerlo e dovete soltanto seguire le mie indicazioni. Quando vi presento lo speciale 90, quando vi presento indicazioni sul 90, sapete benissimo che lo andiamo a centrare. Bene cari amici, continuiamo tutto normalmente per questa fine del mese di maggio e ci prepariamo poi con le nuove previsioni del mese di giugno. Come dico sempre, se in un mese abbiamo ottenuto solo l'ambata o il negativo, non bisogna mai scoraggiarsi, dobbiamo continuare con costanza perché poi si va certamente al recupero, non bisogna mai arrendersi del gioco dell'otto, bisogna sempre portare costanza, sempre portare fiducia nelle previsioni perché quando un metodo è buono, quando una previsione è buona, ci porta i risultati. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.